Si è concluso un altro campionato mondiale nel weekend odierno dopo aver parlato ieri della Superbike che ha proclamato Alvaro Bautista campione del mondo per la seconda volta, nel mondiale rally c'è un altro bicampione del mondo che si conferma. Calle Rovampera infatti vince il secondo titolo del mondo consecutivo al termine del rally dell'Europa centrale, prima assoluta nel WRC e di fatto apre il ciclo del talento finlandese. Calle Rovampera ha gestito alla grande una situazione di estremo vantaggio che va già prima di questo rally, culminato poi da un episodio molto importante avvenuto nella undicesima speciale su 18 previste di questo rally che è stata una prima assoluta perché parliamo di un evento che ha coinvolto tre nazioni diverse, un rally dell'Europa centrale cosiddetto che appunto partiva in Repubblica Ceca, proseguiva in Austria e ha concluso oggi la tre giorni in Germania. Nella seconda giornata invece nella stage 11 quindi in territorio austriaco però accade l'irreparabile perché parlavamo di un duello tra Toyota Racing Team quindi tra Rovampera, netto favorito di questo mondiale rally e Elvin Evans compagno di squadra. Ebbene Elvin Evans nell'undicesima speciale ma si stava spingendo in una condizione di tracciato non propriamente di liac perché parlavamo di un fondo non asciutto ma molto umido di fatto va a sbattere letteralmente contro questo fienile e di fatto dice addio concretamente al campionato del mondo Evans dove va a spingere per provare a prendere più punti possibile per poi provare a limitare i danni in power stage. Con questo incidente in stage 11 evidentemente le speranze di mondiale del gallese sono belle che finite e da qui in poi Rovampera ha praticamente passeggiato. Questa è la Toyota Yaris GR Rally 1 ridotta nelle condizioni che vedete dopo il grave incidente appunto capitato a Evans che si è ritirato alla giornata di sabato e è dovuto poi ripartire con la regola del super rally alla domenica ma comunque non c'erano ulteriormente chance evidentemente di tenere aperto il mondiale. Ricordiamo che il mondiale rally in realtà non sarebbe ancora finito sulla carta c'è ancora un round da correre in Giappone ma appunto dopo questo incidente Evans doveva arrivare primo in power stage quindi di fatto nella diciottesima prova sperando che Rovampera evidentemente non arrivasse al traguardo per avere delle mezze chance di giocarsela nell'ultimo round in Giappone. Non è stato così perché Rovampera da questo incidente in poi di Elvin Evans ha di fatto passeggiato e con la seconda posizione maturata appunto alla domenica conquista il titolo del mondo numero 2 della carriera, titolo numero 2 consecutivo e appunto già Rovampera entra nella storia perché va a eguagliare dei nomi di un certo rilievo. Per rimanere in Finlandia basti pensare che Rovampera ha eguagliato Marcus Grunholm per ampliare invece la nostra veduta anche al di là di Grunholm, dobbiamo citare Carlos Sainz padre, Nicky Biason per rimanere in Italia e anche Valder Roerl quindi piloti di un certo livello. Ebbene Rovampera ricordiamo che ha soltanto 23 anni, ha già vinto un mondiale l'anno scorso, pilota più giovane della storia, ha vincito un campionato del mondo WRC e lo ha fatto confermandosi a 23 anni, segno che evidentemente il ciclo di Rovampera non si è chiuso, anzi è appena iniziato. In tutto questo c'è stata in realtà anche una gara che ha visto un vincitore in questo rally all'esordio assoluto e dunque il primo vincitore in assoluto del rally dell'Europa centrale è Thierry Neville che ancora una volta non vince il mondiale, complice anche degli errori durante il corso della stagione. Ma appunto in questa gara dell'Europa centrale evidentemente ha trovato la quadra che è mancata per gran parte dell'anno, è la seconda vittoria in stagione per quanto riguarda il pilota belga che di conseguenza mette le basi quantomeno per un 2024 importante soprattutto dal punto di vista della fiducia, un 2024 che peraltro avrà tanto di cui raccontare. Neville con questa vittoria si conferma quantomeno in terza posizione assoluta, appunto seconda vittoria in stagione dopo quella della Sardegna per il pilota belga suona il suono nazionale, la Brabanson 184 punti in totale per il pilota belga che comunque anche a sto giro non riesce a vincere un mondiale, lui che è sempre o spesso arrivato in seconda terza posizione, prima dietro Roger, poi dietro Tanaka, adesso anche dietro Calle Rovampera, autentico fenomeno assoluto di questa disciplina. che l'anno scorso ha vinto un mondiale dominando in particolare con le quattro vittorie nelle prime cinque tappe del mondiale rally, quest'anno in realtà era partito abbastanza piano, poi da quando ha vinto in Portogallo di fatto il rendimento di Rovampera è esponenzialmente aumentato e abbiamo tre vittorie in Estonia, in Grecia e appunto in Portogallo, una marea di podi e una gestione molto accorta per un pilota che invece l'anno scorso aveva mostrato di essere particolarmente dominante, figlio anche del cambio di regolamento. c'è stato in realtà il cappottamento in Finlandia che sembrava aver aperto il mondiale in favore di Elvin Evans ma Elvin Evans che comunque è arrivato trentunesimo assoluto in questa gara dell'Europa centrale ha dimostrato che ancora una volta sotto pressione ha sbagliato un po' come gli capitone i mondiali persi con Roger. Evans si consola vincendo la Power Stage, ricordiamo che nel rally l'ultima prova speciale ha i primi cinque classificati della prova stessa, dà dei punti extra, quindi sono cinque punti più ma ovviamente con la seconda posizione di Rovampera, il finlandese, vince il campionato del mondo e appunto di fatto va a completare un podio di un certo livello, perché il terzo classificato è Oi Tanak che si sta togliendo le ultime soddisfazioni con la Fort Puma che è dei tre principali costruttori, quindi Hyundai e Toyota è nettamente la più debole dell'otto, ma comunque Tanak ha vinto due gare di fatto da solo e con questo podio peraltro si è assicurato anche il contratto per l'anno prossimo con Hyundai, quindi torneremo ad avere una squadra coreana con due uomini di punta, Neville e Tanak, due galli nel pollaio volevo dire evidentemente, ma appunto sarà una parte molto importante la gestione di questi due fenomeni perché parliamo ovviamente di due piloti che hanno dimostrato veramente tanto nella storia, più Tanak in realtà che Neville sarà veramente tanto interessante per un rally dell'Europa centrale in realtà che ha vissuto di tantissime emozioni perché nelle prime due giornate in Repubblica Checkhouse c'era un fondo molto umido con appunto pioggia venuta anche durante le prove, quindi il grip era veramente difficoltoso, è ovvio che quindi si erano portati tanti piloti a avere un limite diverso e a commettere tantissimi errori, abbiamo visto errori ripetuti di Esape Calappi ritirato in gara, di Lube che ha perso del tempo, lo stesso Evans appunto è stato figlio di questo fondo non propriamente idilliaco, fatto sta che comunque si è chiuso con una gara in anticipo il Mondiale 2023, un po' come si era concluso in anticipo il Mondiale 2022 nel Mondiale Rally con appunto la vittoria di Rovan per il Nuova Zelanda, ma lì appunto mancarono due appuntamenti, segno che appunto Rovan per ha saputo vincere un Mondiale sia l'anno scorso dominando sia quest'anno, evidentemente gestendo con tantissimi avversari che sono solti i punti a vicenda, vedi per esempio le tre vittorie durante l'anno di Sebastiano Gilles, le due di Tanak, le due dello stesso Evans, le due di Neville, insomma quando Rovan per andava male non c'era mai stato un anti Rovan per che vinceva sempre, anzi c'era un'alternanza di piloti che nel sottobosco sotto Rovan per avevano evidentemente le stesse possibilità di vincere, e questo ha reso molto equilibrata la lotta per la seconda posizione che sarà adesso l'unica cosa che rimarrà da vedere nel rally di Giappone che si correrà a metà novembre. Per fare invece un ricapitolo finale delle altri piazzamenti, appunto quarta posizione assoluta per Sebastiano Gilles, il più ricampione del mondo che però da qualche anno corre part-time e per un certo punto si è pensato che potesse vincere il Mondiale da part-time, siccome di fatto ha corso sette gare e ne ha vinto e tre, un rendimento pauroso. Quinta posizione per Takamoto Katsuta, il pilota giapponese che conferma il piazzamento del rally scorso in Cile, il sesto è Teemu Suninen, pilota Hyundai, in realtà arrivata in corsa sulle rally 1 per la brutta fatalità capitata a Craig Breen che ci ha lasciato nel pre-rally di Croazia, menzione speciale per il settimo classificato Gregoire Munster, pilota belga che corre con il passaporto lussemburghese all'esordio assoluto in realtà nel rally scorso di Cile con la Fort Puma Rally 1 e ha fatto comunque un'ottima impressione nonostante gli zero punti, ebbene qui ha concretizzato con una bella top ten e chissà che possa essere un pilota futuribile per la squadra inglese di Malcolm Wilson. In ottava posizione abbiamo Adrien Fourmau che era iscritto in realtà al VRC2 ma appunto non era diciamo elegibile per i punti in quella categoria ma prende punti in realtà per il campionato del mondo rally in quanto in top ten e quindi ottima prestazione per colui che in Giappone sarà nella rally 1 al posto di Pierre-Louis Loubet che appunto ha fatto tantissimi errori e prenderà pochi punti. Non la posizione per Nicolas Chamin, pilota francese che ha vinto in realtà il rally dell'Europa centrale per la categoria VRC2 appunto davanti a Pierre-Louis Loubet che sarebbe una rally 1 ma appunto ha sbagliato tante volte con questo fondo molto umido nel sottobosco non propriamente idilliaco e appunto prende soltanto un punto per un pilota che nell'ultime quattro gare ha preso soltanto questa decima posizione come top e appunto per l'ultima gare di Giappone Loubet sta subito proprio dallo stesso Adrien Furmo in vista di un ritorno nella massima categoria nel 2024 per un mondiale rally che dunque di fatto si include con una gara di anticipo ricordiamo Calle Rovampera si conferma campione del mondo rally dopo il mondiale dominato nel 2022 è campione del mondo anche nel 2023 secondo me è un mondiale che certifica l'apertura di un ciclo un po' come è stato per l'Hub prima e oggi poi in mezzo abbiamo avuto il mondiale di Tana nel 2019 ma Rovampera ha dimostrato per vincere in tutte le condizioni sia nelle situazioni di massima difficoltà sia dominando sia gestendo sia riuscendo a mettere la stessa pressione giusta agli avversari insomma un pilota veramente completo veramente un fenomeno e chissà che l'anno prossimo non ci possa essere il Tris ma ovviamente lo vedremo a partire da gennaio dove appunto il mondiale ripartirà da Monte Carlo come ormai tradizione fatemi sapere cosa ne pensate di questo mondiale rally 2023 cosa avete visto di speciale in Rovampera che sensazioni avete avuto per questo secondo titolo del mondo del pilota finlandese fatemi sapere cosa ne pensate il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo al prossimo video